Si chiama Il Volontario, la scultura che dallo scorso fine settimana è stata inaugurata all'interno di una rotatoria di Osteria Nuova nel comune di Montelabate. A realizzarlo il giovane artista Riccardo Leador Venturi che ha risposto alla volontà del sindaco Cinziaferri di trovare una comunicazione artistica per ringraziare i tanti cittadini di Montelabate che si spedono quotidianamente in azioni di volontariato a sostegno della cittadinanza. È dedicata ai volontari, a tutti i volontari che operano generalmente ma principalmente quest'idea mi è nata nel poter ringraziare i volontari della protezione civile prima e della Croce Rossa successivamente per aver sostenuto il comune di Montelabate ed essere stato effettivamente il braccio operativo nel periodo del Covid. Grazie a loro siamo riusciti a portare sollievo in tutte le famiglie. L'opera è simbolicamente posizionata attorno ad un pesco nascente, albero simbolo della produzione agroalimentare ed eccellenza di Montelabate. La domanda che mi sono posto è che colore può avere un volontario e tra tutti i colori che dispone una tavolozza ho scelto il magenta che è un colore primario proprio perché secondo me trovo nella scelta di dedicare, di fermare la propria vita a persone che non si conoscono una chiave umana a cui tutti dovremo ispirarsi o comunque mirare. Nel mio caso volevo realizzare delle strutture che dialogassero appunto con un singolo albero, un albero giovane in realtà che ancora deve crescere proprio perché volevo che insomma crescesse proprio in questa terra, in questo territorio e in questo caso le strutture vanno a dare l'acqua al pesco quando piove e mentre invece diciamo la metafora, l'aspetto più poetico era quello di questi fiori di pesco che quando vanno a perdere questi petali su queste mappe sono diciamo nuovi volontari che vanno ad aggiungersi al territorio. La parola volontario a volte viene usata anche impropriamente ma in realtà nelle piccole comunità come può essere quella di Montalabate ci sono tanti volontari che operano dalla protezione civile alla Croce Rossa, all'associazione combattenti reduci che è quella che organizza tutte le manifestazioni di ricorrenza storica, alla banda che anche loro prestano servizio quindi abbiamo tantissime realtà di associazioni di volontariato ed è giusto quindi ricompensarle almeno con un'opera e poi voglio dire questa cosa che le opere d'arte rimangono nella storia e per questo che ho voluto che venisse fatta un'opera d'arte perché così nella storia rimarrà il ricordo di ogni singolo volontario.